Lo dicono all'unisono, il contagio qui è quello della solidarietà, significa cioè che il bene chiama il bene anche a Pasquetta, anzi soprattutto nei giorni di festa. Siamo a Biceglie, negli spazi della Caritas, i volontari in collaborazione con i soci del Rotary hanno preparato 250 pasti, il resto in altri comuni del territorio. È un'esperienza bellissima che abbiamo deciso di fare per il primo anno, ma che ha messo a fattore comune la solidarietà, il valore forte della solidarietà sul nostro territorio e soprattutto la capacità, la forza di agire, di intervenire sulle famiglie in difficoltà, tenuto conto che si è accentuato fortemente il divario tra chi ha tanto e chi ha nulla. Qui dentro si cerca di fare uguaglianza riducendo, come scriveva San Paolo nella lettera ai Corinzi, il dislivello tra chi spreca il superfluo e chi manca persino del necessario. È solo una piccola goccia nell'oceano, ragazzi, ma senza questa goccia neanche l'oceano ci sarebbe. Quindi i nostri comportamenti personali, quello che noi possiamo fare nel nostro piccolo, è veramente importante, bisogna crederci in questo.